Il quadrato numero uno al quadrato numero quattro della categoria Sengono massimi, bianco verdi, meno 63 kg Palmini Lorenzo, Giorce, Gustafà, Cappotto del Francesco Presentarsi al quadrato numero quattro A seguire, sempre sul quadrato numero quattro Bianco e verdi, meno 70 kg Cagliazzo massimo, Petrilli Felice Ripeto, presentarsi sul quadrato quattro E a seguire, bianco e verdi, meno 85 kg Casaldi Matteo, Tappa Gisette, Baccio Edoardo Cialè Nicolas, quadrato numero quattro Ring numero quattro Le categorie ha moved from ring number one to ring number four Next category Palmini Lorenzo, Giorce, Gustafà, Cappotto del Francesco Presentarsi al quadrato numero quattro Sul podio, è il podio Marco Bellini Giassi Paggoldo Sardegna Pier Valder Olseter, Piri East Norway Roland Grant Paggoldo Sardegna Paggoldo Sardegna Paggoldo Sardegna Ring number two Next category Junior Female Black Up to 62 kg Damato Corio Omulze e Malin Zocri Iacovic Chiana Ripeto ring number two Next category Premiamo, sparring, senior maschile blu e rosso Blue and red, plus 85 Third place, terzo posto, Marco Bellinzas Taekwondo Sardegna Second place, Pier Valder Olseter Team East Norway First place, Roland Grant Roland Grant Team Cool Team Team Cool Team Sul podio, Umberto Guerani Extreme Fighters Roni Eldakake Cyprus Ferrande Grapeon Umberto Guerani Extreme Fighters Hansen Hansen Fritjof Sebastian Norway Come to ring number one Hassan Fritjof Sebastian Come to ring number one Premio Premio Premiamo la categoria Viterani Sparring Più 70 kg Second place, Umberto Guerani Rani Eldakake Rani Eldakake Cyprus Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Lettino Armando Pio quadrato numero uno, ring number one.